ciao a tutti ragazzi di video siamo nel 0dj siamo in un nuovo video oggi siamo su among us raga io appena mi trato volevo fare un video su among us perchè ho detto non so avevano fatto aggiornamenti raga come sono una letta nascondino raga cioè no io io impazzisco allora apposte mio che è altissima ve lo leggo così almeno stiamo tutti d'accordo io volevo fare una mod di among us a nascondino fa perfetto raga allora apposte mio che è altissima cosa un'altra vozza fiat ma non pensate che sia normale nascondino e suonanti devono completare l'incarico per accelerare il cronometro evitare l'impostore super ok qui c'è un cronometro in cui l'impostore deve uccidere gli astronauti quindi i cronometro l'impostore deve scovare gli astronauti e farli fuori tutti perfetto gli astronauti dovrei nascondersi nasconderti bene per sopravvivere in questa modalità puoi usare i condotti e avere un avanzatissimo rischiometro rischiometro che ti aperte anche quando li imposterò nelle vicinanze perfetto li imposterò un legge di condotti e visione per sfuggirli l'impostore non può usare i condotti ecco questo qui l'impostore in questa modalità quindi dovrei agire rapidamente per stanare la sua abbrita e buia da fuori fortunatamente hai una torcia elettrica che ti aiuterà a individuare le sue prossime vittime eh ok questo qui parla con l'impostore ok stai nella qua per vedere va bene questo joystick virtuale della torcia elettrica sulla destra ah ok quindi è una torcia ok che è in giro che perfetto eh anche ora che alla fine del mondo negli ultimi istanti della partita l'impostore diventa più forte si muoverà diceva una mappa caccia è un segnale nazionale di che l'opzione strutturata in quei video non faremo se aumentate ma tieni la calma per vincere ok raga è una figata allora io vorrei entrare in un server italiano solo che ho paura che dicano che non si possono dire quindi non mettiamo perché è inglese dai aggiorniamo perfetto andiamo da sto tizio english perfetto ok comunque questo primo personaggio un pozzo di neve è molto bello no che figo posso accarezzare a parte che hanno aggiunto cioè io proprio raga io so che un casino prima cioè io questi giorni non ci sto con un botto però se sto tizio forse può fare inizia oddio si però è è è ho 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 messo uno sfondino perché non lo so raga ho messo uno sfondino non lo so no raga ho sbagliato allora trova partita the skill tipo di partita nascondino ok nascondino ok tipo di chat sono chatterabile raga così e quindi possiamo mettere italiano così ok così non dicono cose perché io c'ho molta paura dai non c'è nessuno allora raga e ci sentiamo quando trovo partita ok raga ci siamo mi sentito che è perfetto ok raga è iniziato allora qui c'è eccolo l'impostore no raga no raga no 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 raga ah è che si si c'è sopra il cosa che mi dici non ti dici mamma mia nascondino mamma mia raga noo non abbandonato lost raga vabbè ci sentiamo ok raga ci siamo ci siamo ci siamo allora spero che sia partito il il qua c'è proprio raga d'acqua c'è proprio trauma Sì, ho chichi, bravi, bravi, bravi. No, un è morto. No, tu è morto. Adesso che arriva io mi nascondo. Cioè, se sento il muso. Dai, stai ne abbandonando, no, 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 no. Andiamo in infermeria. No, basta morire. Ragazzi qua, ragazzi qua. Insieme, insieme. No. Sottormentare. Si può tormentare? Allora, piccoboff. Ah, che cos'è? Mi sa che è possibile. Ah, è per inseguire, ok. Ragazzi, però c'è, è rottissimo. Comunque, c'è, comunque è bello il gioco in sé. Così solo che è troppo rotto. Cioè, qua ha fatto una strage. Ma io voglio vedere lui. Mi sa che lui c'è infinito. Cioè, no, vabbè, raga, uno ne rimane. Dov'è l'ultimo? Non sta qua? Scatto. Niente. Allora, il gioco, raga, è bellissimo. Mi piace sta cosa? E il frate, posso affacere... Sì, è l'elecriscia. Posso prendere qualcosa del Cosmic in più? Mi mostrava un po'. Ma completata da 0% non ho fatto proprio niente. Mi affrontavo che ho fatto qualcosa, va bene. Questo qua è di gelati. E' un uoco, perché è l'ultimo. Va bene, ragazzi. Sperate che questo video è sul nuovo, sul nuovo nascondino. Diciamo, è bellissimo, nascondino, eh. Nascondino da non fare a casa, solitamente. Come in caso, se vi si piaci, se vi piaci, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale. Se arriviamo a 5... No, 5 butasso, troppi. Mi chiedo, se arriviamo a 20 like, porto i miei amici qui e giochiamo nascondino tutti insieme qua, dove ci tagliamo addosso. E... E niente. No, non, 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 non Grazie a tutti